Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Buon compleanno Livorno di Maurizio Silvestri Buon compleanno Livorno Sei nato per mano di Francesco Primo e del suo fratellino Ferdinando, Primo anche lui Entrambi hanno scelto il mese di marzo per santificare la tua venuta al mondo come città Il primo collocando la prima pietra il 28 marzo 1577 in giovedì alle ore 16 e due terzi e minuti 8 E vi si missono medaglie di bronzo e uno bossolo di piombo pieno di monete d'argento E altre gioie messe in certi buchi in sull'orlo di detta pietra Ferdinando fece poi la sua parte il 19 marzo 1606 Ponendo sulla spalla sinistra del gonfaloniere Bernadetto Borromei Una stola di velluto rosso con alcune poche pelle bianche da basso E dicendo Questo sarà il segno di onore che porteranno per l'avvenire i gonfalonieri della città di Livorno E da quel giorno, come ci ricorda lo storico Adolfo Mangini In tutti gli editti, i rescritti e le grida granducali Livorno fu qualificata città La scelta del mese non è stata un caso Ma risponde a precise regole di astronomia e alchimia Materie delle quali i medici erano occultori Ma di questo parleremo in un prossimo appuntamento Per ora, limitiamoci a fare gli auguri a Livorno Che, essendo la data di fondazione quel 19 marzo 1606 Compie in questi giorni 406 anni Per festeggiare la posa della prima pietra, tuttavia Abbiamo qualche perplessità Se il caso di festeggiare in marzo oppure no Nel senso che all'epoca di Francesco Era ancora in vigore il calendario Giuliano Il 28 marzo 1577 corrisponde dunque al nostro 7 aprile E per la precisione bisogna anche dire che siccome all'epoca le ore del giorno Si contavano dai 30 minuti dopo il tramonto La prima pietra è stata posta fra le 11.08 e le 11.38 Atroce dilemma dunque Festeggiare in marzo anche la data della fondazione Oppure rinviare ad aprile Beh, siccome è meglio abbondare che deficere E le feste non fanno mai male Raddoppiamo E festeggeremo di nuovo prossimamente Doppi auguri a Livorno E a tutti i Livornesi Potete riascoltare questa puntata in on demand Su www.livornomagazine.it E nella sezione Flashtube di www.radioflash.info Grazie a tutti